Ciao a tutti! Oggi prepareremo il blondie alle mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, lievito per dolci vanigliato, vanillina, pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone, mele tagliate a pezzetti, sale, cannella e confettura di albicocche. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa abbiamo miscelato la confettura di albicocche e la cannella con le mele. Mettere nel boccale il burro ed azionare il baby per 3 minuti, 60 gradi, velocità 2. Aggiungere lo zucchero ed azionare il baby per 2 minuti a velocità 2. Aggiungere le uova ed azionare il baby per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere la farina, la vanillina, la pasta di limone, il lievito e il sale. ed azionare il baby per 2 minuti a velocità 4. Versare il composto in una teglia rivestita con carta da forno da 30 x 22 cm. mettere le mele cuocere in forno pre riscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Il blondi è cotto, lasciare raffreddare completamente, tagliare a quadrotti, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Blondi alle mele, grazie e alla prossima ricetta! Blondi alle mele, grazie e alla prossima ricetta! Blondi alle mele, grazie e alla prossima ricetta!